Purtroppo sì, è una fattura possibile anche oggi per cercare di vincere, purtroppo manca il gol, è capitata la palla alla fine, il calcio è questo, dobbiamo continuare a lavorare, la rivessa l'ho per vincere, stiamo cercando di fare da un mese a questa parte, purtroppo da vincere erano anche prima qui a Bonobis, non ci siamo riusciti, purtroppo ripeto, dobbiamo rialzarci ancora una volta, lasciare il rammarico perché comunque ci sono tante soluzioni possibili e quindi può succedere ancora di tutto. È incredibile, sono incredibili tutte le occasioni che stanno capitando e che magari non si riescono a sfruttare, segno che ho, le auto sono matematici per i segnali che stanno arrivando oppure per l'altro solamente ci può essere una domanda. Sì, mi accordo con te, perché comunque al di là che noi tre o quattro partite non vinciamo più, quindi, quindi, tra virgolette ci stavamo aspettando magari, purtroppo abbiamo fatto fatica nell'ultima partita a fare gol, magari siamo proprio educati da sottoporti, ma non parlo solo degli attaccanti ovviamente, come squadra e non sto dicendo che ancora tutto è possibile, dobbiamo ancora crederci, ripeto, il rammarico ancora oggi c'è ancora una volta, però non ci possiamo permettere perché comunque può succedere ancora di tutto. Noi comunque vado, abbiamo andato al Sarò per vincere, perché comunque è per salvarci, ma se non succede dovrei ottenere la migliore posizione a tre ore, quindi il nostro obiettivo è quello, vincere tutti i costi, perché comunque ci sono tanti scontri diverti, succede di tutto. A questo punto cosa faceva il Modena su Mantua, oppure l'avete saputo la cosa? No, per cosa al primo tempo c'era stata qualche notizia, ma poi, come sono cento un po' da questa parte, dobbiamo vincere noi, quindi al di là dei risultati che purtroppo, dobbiamo vederli, perché ci siamo messi in una situazione dove dobbiamo vedere i risultati, però se non vinciamo noi, lo facciamo noi, quindi è tutto qua. Senti Ivan, Sanzovini come stava? Ve lo avete dovuto consolare, vi ha detto qualcosa, chiesto scusa, non so, cosa vuoi dire dallo spogliatoio? Marco l'ha rammaricato come non mai, ripeto, è capitata la palla, ma vi ha detto cos'è successo, che cosa ha sbagliato, se ha sottovalutato, se ha scelto male, penso che a Marcos gli capitano, mettiamo mille volte quella palla, Marco fa sempre, stiamo parlando che è capitata la palla, il giocatore più forte sotto porta, non è che è capitata un difensore, con tutto rispetto a fra tanti e comunque novantesimo, tutto è capitato a Sanzovini, però il primo rammaricato è deluso, ma ci ha aiutato sempre, ma quindi non è colpabile, di sua è assolutamente, ci riscaccia anche a noi per lui, ovviamente, dobbiamo girarci su, c'è ancora tempo per segnare coltabberci, per forza, quindi in modo in alto si deve, si debiterà, Ivan, prima il mister l'ha detto, il rammarico più grande è quelle quattro partite, che noi poi dopo non abbiamo dato continuità a quelle quattro partite, sei d'accordo? Sì, come ho detto prima, noi se guardiamo il nostro percorso, la passiamo magari da vincere con il Forlì, poi abbiamo avuto la partita in casa con la Leggiana che magari abbiamo perso per un episodio, però il pareggio ci potrebbe stare bene, il pareggio di oggi era diverso magari, la vedevi in modo diverso, stiamo parlando che oggi abbiamo trovato una squadra comunque forte, ci abbiamo provato in tutti i modi, siamo stati in partita fino alla fine, ti era capitata anche la palla per far gol, purtroppo è così, ma il rammarico è quello, comunque avevamo fatto un filotto importante prima, ci eravamo tirati un po' su, ci è mancato quella continuità di, come dice il mister, in quelle partite, ci è mancato un pochettino, il calcio è questo purtroppo. Alla luce di quello che è successo oggi, magari nell'ultima giornata di campionato, non ci aspettiamo, non ci aspettiamo, non vediamo che ci regalano niente, non ci aspettiamo, non ci aspettiamo che ci regalano niente. quindi, ripeto, dobbiamo togliere questa amarezza che abbiamo adesso, tornare martedì cari per fare un risultato al di là, se il Tirol può regalarci una gioia o no, ma per noi, per cercare di miglior il posizionamento poi, quindi dobbiamo andare con la testa giusta, già da subito, perché sennò è troppo tardi e poi c'abbiamo altri, l'altro l'ammarica ancora, stiamo più a parlare di posizionamento e tutto, quindi noi dobbiamo comunque pensare a vincere, poi vediamo che succede. perché se devi fare le ultime paradossalità. Sì, mi sa che solo le mezzanze va a padre, può succedere di tutto, quindi quello che dico io è quello, tu devi vincere comunque, Sperando che poi ti può andare bene la partita sul Tirol, però ripeto, noi dobbiamo vincere, ci sta niente da fare, lo stiamo dicendo da un po', però dobbiamo riuscire a tutti i corsi, in un modo o in un altro e vincere a tutti. C'è tanto l'ammarico, sì, era un'occasione veramente importante, però dobbiamo guardare avanti, almeno personalmente sto già pensando alla prossima partita, perché non possiamo guardare a questa, dobbiamo pensare alla prossima e a vincere la prossima. Poi guarderemo la classifica e se potessero essere play-out vinceremo. Quando al 93 hai visto con la palla tra i Vili Sanzuini hai pensato al fatto? Sinceramente speravo che entrasse, i presupposti c'erano tutti e in panchina eravamo già pronti, però ci sta, ci sta, purtroppo nel calcio ci sta di fare gol, ci sta di sbagliare, può capitare a tutti, quindi guardiamo avanti e pensiamo a vincere la prossima partita che in questo momento è l'unica cosa che possiamo fare. Guarda ha studiato al tavolino, pensare a difendersi nel primo tempo più a difendersi e rischiare di più la ripresa? Sì, diciamo che sapendo della qualità maggiore che avevano la loro rosa, è ovvio che abbiamo preparato la partita soprattutto inizialmente cercando di rischiare poco, di stare corti e di mettere in difficoltà. Questo è successo, abbiamo avuto anche le nostre occasioni, siamo stati bravi a contenerli e nel finale è ovvio che bisognava cercare di fare qualcosa in più come abbiamo fatto. Le occasioni sono state, purtroppo non le abbiamo sfruttate e, come ho detto, guardiamo avanti e cerchiamo di vincere la prossima partita. Come ci arriva secondo te a livello mentale il Teramo a quest'ultima gara e poi ai play-out secondo te? Ci arriva come una squadra che sta cercando di uscire da questa situazione e da un'ultima possibilità. È ovvio che, come dicevo qualche giorno fa, se non facciamo il nostro, cioè vincere le partite, non possiamo sperare di uscire perché siamo sotto. Quindi abbiamo molte possibilità, cerchiamo di vincere questa partita, poi guarderemo la classifica e quello che sarà lo affronteremo nel giusto modo.